Sapevi che la pazienza è una chiave per entrare nel cielo, per cominciare a gustare già qui sulla terra le primizie del cielo? Perché senza pazienza non si può essere cristiani e l'avvento è il tempo della pazienza, il tempo nel quale imparare ad avere pazienza. La pazienza è di Dio perché Dio è colui il quale patisce insieme a noi ma non toglie a noi la libertà. Questo è l'amore di Dio, un amore misterioso che non forza le cose, che non forza i tempi anche se ci vede induriti di cuore, anche se ci vede schiavi del peccato. Lui non attenta alla nostra libertà, Lui non ci obbliga a credere e a convertirci, Lui fa di tutto per attirarci, per sedurci, ma non forza il nostro cuore, non forza la nostra mente. Dio non fa lavaggi del cervello, Dio ci lascia perfettamente liberi. Per questo invia a noi Giovanni Battista, invia a noi i profeti, invia a noi la Chiesa a preparare il cammino al Signore perché senza preparazione della terra è impossibile che il seme gettato, seminato, possa penetrarvi. Senza la preparazione della grazia è impossibile accogliere il Signore nella nostra vita. E per renderci conto, aprire gli occhi sul fatto che Dio sta preparando la nostra terra, la nostra vita, attraverso gli eventi della nostra storia, attraverso le difficoltà, attraverso le sofferenze, attraverso l'aratro della croce, è fondamentale che tutti noi porgiamo l'orecchio a Giovanni Battista, al precursore, all'apostolo che ci annuncia la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, che ci annuncia cioè il compimento di ogni promessa, l'incarnazione di Dio nella tua vita, nella tua storia, che Lui sta preparando, nella terra che Lui sta dissodando, nelle montagne dell'orgoglio che Lui sta abbassando, nelle valli della paura e dell'angoscia che Lui sta colmando con la consolazione. Allora, coraggio, prestiamo orecchio all'annuncio del Vangelo perché dopo Giovanni Battista arriva uno che è più forte di Giovanni Battista, arriva Dio stesso che si fa carne e che ha il potere di distruggere l'opera del demonio in te, di smentire la menzogna con la quale il demonio ti tiene schiavo perché tu possa aprire il tuo cuore e lasciare che Lui entri con il suo Spirito Santo, che Lui prenda dimora dentro di te come nel grembo benedetto alla Vergine Maria, che Lui faccia della tua vita la mangiatoia nella quale essere deposto perché insieme a tutti i fratelli della Chiesa possiamo donare al mondo la speranza, donare al mondo il nostro Signore Gesù Cristo fatto carne nella nostra vita, l'unico Salvatore per ogni uomo.